Cartier Crush, il capolavoro dell'orologeria che sfida le convenzioni. Il Cartier Crush è più di un semplice orologio. È un'opera d'arte, un simbolo di creatività e di anticonformismo, una testimonianza di una storia misteriosa e affascinante. Nato a Londra nel 1967, questo orologio ha una forma asimmetrica e deforme, che ricorda gli orologi sciolti dipinti da Salvador Dalì. Secondo una delle leggende più diffuse, il Cartier Crush sarebbe nato da un tragico incidente automobilistico, in cui perse la vita il vice presidente di Cartier a Londra. L'uomo indossava al polso un orologio Cartier-Benoir, che si deformò a causa del calore delle fiamme. Jean-Jacques Cartier, direttore della filiale londinese, avrebbe visto l'orologio danneggiato e avrebbe deciso di creare un modello in suo onore, riproducendo la forma irregolare della cassa. Tuttavia, esiste anche un'altra versione, più plausibile e meno drammatica. Secondo questa, il Cartier Crush sarebbe stato frutto della collaborazione tra Jean-Jacques Cartier e l'artigiano Rupert Emerson, che avrebbero voluto sperimentare con l'identità visiva di Cartier, modificando la forma di un orologio Beignoir. I due avrebbero pizzicato le estremità della cassa e fatto una piega nel mezzo, ottenendo un effetto surreale e innovativo. Il Cartier Crush fu una sfida ingegneristica, poiché richiese la realizzazione di un movimento meccanico a carica manuale di forma, adattato alla cassa simmetrica. Il primo modello fu dotato di un calibro realizzato da Geger Lecultre. Oggi, il Cartier Crush è uno degli orologi più rari e ambiti dai collezionisti e dalle star. Nel maggio 2022, un esemplare del 1967 è stato venduto all'asta per 1,65 milioni di dollari, stabilendo il record mondiale per un Cartier Crush. Tra le celebrità che hanno indossato o posseduto questo orologio ci sono Kanye West, Kim Kardashian, JC, Kris Jenner e Tyler The Creator. Quest'ultimo lo ha sfoggiato nel video di Lambert Jackie nella copertina del suo album, Call Me If You Get Lost. Il Cartier Crush è un orologio che non passa inosservato e rappresenta l'eccellenza e l'innovazione di Cartier.